Io ho frequentato il liceo linguistico Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano e ho studiato come lingua inglese, tedesco e spagnolo. In quinta superiore in generale ero indecisa fra due facoltà principali da fare all'università ed erano lettere moderne o matematica. Io avevo sia il mio professore di italiano, che in effetti sarebbe stato felice se avessi fatto lettere moderne, sia la mia professoressa di matematica e fisica, che un po' spingeva per farmi fare le materie scientifiche. Poi alla fine ho fatto un po' varie considerazioni, ho scelto lettere per vari motivi, però sì diciamo che i prof sono sempre stati disponibili al dialogo, comunque non è stata una decisione troppo complicata. Mi piacevano sia varie materie umanistiche sia varie materie scientifiche, quindi in effetti volendo mi sarebbe interessato fare molte cose diverse. Considerando poi alla fine fra matematica e lettere, mi sono resa conto vedendo anche i programmi universitari, quindi sono andata sul sito della Statale e ho visto che lettere è un'unione perché sia letteratura, storia della letteratura, ma è anche critica della letteratura, un sacco di storia in generale, c'è filosofia, ci sono esami di arte, filologia, quindi ricostruzione dei testi antichi, dei manoscritti. Comunque ci sono molte discipline. Io per esempio volevo tantissimo fare, mi ricordo, un esame che avesse a che fare con l'etica e a lettere ho trovato il corso di filosofia morale che mi è piaciuto tantissimo, quindi diciamo mi piaceva la letteratura ma ero un po' interessata a spaziare e lettere mi sembrava più ideale per spaziare in questo modo, quindi alla fine ha vinto lei, ma non mi pento della scelta, anzi sono molto felice. È proprio un tipo di studio diverso perché alle superiori ogni giorno tu torni a casa, fai compiti, studi e quindi ogni giorno fai un pochino. In università non ti danno piccole scadenze, verifiche e interrogazioni, loro per tre mesi vanno avanti col programma e poi tu devi studiarti magari quattro libri per un esame. Quindi è proprio un diverso modo di rivedere gli appunti, riorganizzarti e diciamo la vita si riorganizza perché non sei in università tante ore quanto sei quando vai alle superiori, quindi hai più ore che però tu devi organizzarti, quindi tu devi riuscire a distribuire la tua vita sociale e lo studio perché nessuno ti obbliga a studiare se tu che proprio devi farlo. È un tipo di mentalità diversa, all'inizio è un po' complicato però di solito dopo la prima sessione di esami si inizia un po' a capire. Uno dei punti deboli di una facoltà umanistica come lettere è che non c'è lavoro effettivamente, quindi molti dei miei compagni di università sono stati molto attenti durante la triennale a prendere i crediti per l'insegnamento, servono tot crediti di storia, tot crediti di latino e così via. Diciamo se tu vuoi fare l'insegnante già dal primo anno della triennale devi sapere gli esami che devi fare, l'università offre dei crediti se si fanno degli stage o tirocini. Io l'ho fatto e personalmente mi ha svoltato la vita perché appunto sono entrata in un portale di informazione online creata da dei ragazzi universitari che stanno a Bologna, quindi sono entrata e mi hanno fatto una formazione come editor, quindi diciamo correzioni di bots, correzioni di articoli, mi hanno anche fatto come informazione come impaginare articoli su WordPress che è la piattaforma online che usano la maggior parte dei giornali online per impaginare e anche ovviamente c'è la possibilità di scrivere articoli, quindi è un gruppo di ragazzi che collabora nella scrittura di articoli di vario tipo. Questo però ovviamente è volontariato tra virgolette, cioè non è pagato perché sono un'azienda non profit che diciamo punta soltanto a far avvicinare ragazzi giovani al mondo del giornalismo. Gli stessi ragazzi che hanno fondato questa redazione hanno anche aperto un'azienda recentemente e io sono già collaboratrice. Questo invece ho pagato perché facciamo lavori di copywriting per lo più, quindi per esempio ho lavorato per un'azienda con sede a Bologna che produce cibo per cani e loro avevano un blog in cui facevano uscire un articolo la settimana e io per esempio scrivevo alcuni di questi articoli, facevo le mie ricerche, abbiamo scritto anche articoli di cultura, quindi per esempio legati all'Odissea. Secondo me è importante perché se manca quello poi arrivi alla fine della trennale o della magistrale che lavorativamente sei un po' perso. Facendo la trennale ho cercato di vedere quali discipline mi interessassero di più e sicuramente mi piaceva tantissimo storia, mi piaceva tantissimo anche linguistica. Linguistica è lo studio delle lingue ma a un livello più astratto, quindi dalle basi come la fonetica, quindi come l'aria esce dal nostro corpo e produciamo i suoni, come la bocca si muove per produrre i suoni, fino a tutte le nozioni di grammatica che noi studiamo all'elementare, quindi la sintassi, i verbi, i pronomi, i sostantivi e così via, fino poi agli effetti della lingua sulla società anche rispetto alle discriminazioni, quindi tutta la parte di sociolinguistica. Abbiamo linguistica storica, quindi come le lingue si evolvono nel corso degli anni. È una disciplina che diciamo si dirama molto ma ha al centro lo studio della lingua e questo mi piaceva tantissimo e ho trovato che una fra le poche facoltà che mi piaceva, che trattava questa disciplina nello specifico e magistrale si trovava a Bologna ed è dati e modelli per le scienze linguistiche che appunto quindi studia un po' tutte quelle cose che ho detto prima. E ho scelto quindi Bologna sia perché appunto aveva questa facoltà specifica che sapevo che mi interessava, sia perché Milano l'ho trovata un po' caotica nella mia esperienza da studentessa universitaria. Bologna diciamo mi affascinava per il fatto che io potessi andare a piedi ovunque nel giro di dieci minuti e che c'erano anche tanti studenti, c'era un bell'ambiente, mi piaceva come città e poi ho conosciuto anche appunto i ragazzi con cui collaboro con la redazione che sono lì quindi sarebbe anche comodo per quello. Bisogna calcolare che andando a Bologna bisogna prendere almeno una stanza che sono molto difficili da trovare perché ci sto provando ma partendo proprio dalla base mi sono affidata sul passaparola quindi col fatto che io ho un po' di amici lì ho chiesto a tutti quanti di chiedere a tutti quanti e poi Facebook aiuta tantissimo perché ci sono proprio i gruppi di persone che dicono quando si libera una stanza come l'offerta e così via è più facile secondo me trovare casa se c'è qualcuno lì a Bologna perché spesso ci sono gli annunci sulle bacheche in università o cose del genere quindi se si vive in città si sa di più però sì io sto trovando che avere contatti diciamo mi aiuta tanto però comunque sto avendo difficoltà soprattutto trovare stanze singole se sei pronti a condividere la stanza è più facile ma una stanza singola da soli è più complicato e si può andare a spendere anche lì fra i 3 e i 600 euro l'università è comunque statale quindi con l'ISE e tutto quanto viene a costare più o meno come la statale di Milano quello non cambia molto io so che so come è calcolata la mia vita fino a che finisco la magistrale quindi intorno ai 25 e dopo non so più bene cosa succederà spero di lavorare in un ambiente come l'editoria anche il giornalismo non mi dispiacerebbe o editing in editoria anche quello mi piacerebbe molto so che non è semplicissimo quindi non è che le speranze sono un po' così però sarebbe carino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti